Ciao a tutti, oggi vediamo come decorare un tagliere in bambù. Prima di tutto riporto il disegno con carta carbone, un disegno che ho trovato su una carta di macelleria con il maiale diviso nelle sue parti. Utilizzo un Bram Peter Junior, che è uno dei migliori pirografi al mondo, con una punta piatta e la utilizzo di taglio. Come si può vedere ci sono delle difficoltà proprio dovute al tipo di legno. Bisogna per questo tipo di legno alzare molto la temperatura e cercare di lavorare bene sulle venature. Ho poi cambiato la punta, in questo caso sto usando la punta tonda, a filo proprio. e devo ripassare più volte nello stesso punto, proprio perché le venature mi rendono difficile l'incisione. Ecco qui si vede molto bene la punta tonda. Vado a sostituirla e riposiziono la punta piatta. Con questo pirografo è molto semplice, basta svitare leggermente le due viti con il cacciavite in dotazione e si inseriscono subito le punte in questo modo. Si riavvita anche senza forzare tanto e immediatamente vado a lavorare con la punta piatta. Faccio una prova su un pezzo di legno di scarto per trovare la giusta temperatura. A questo punto inserisco delle sfumature in alcune posizioni per rendere un po' più carino il mio maiale qui ho accelerato il video per non renderlo noioso vediamo piano piano che aggiungendo delle sfumature in alcune posizioni diventa un po' più completo vedremo poi in un altro video come arricchire ulteriormente questo tagliere Se vi interessa approfondire i lavori di pirografia oltre a seguire il nostro canale youtube potete prendere come punto di riferimento anche il libro La tecnica della pirografia che è uscito nel 2020 con l'editore Sandit Libri lo trovate nelle librerie o online Io vi ringrazio per l'attenzione visitate anche il nostro sito elettronicadidattica.com Naturalmente abbiamo i pirografi Brain Peter Junior Brain Peter Mini e tanti accessori per la pirografia Vi aspetto per i prossimi video Ciao a tutti A presto